E' un amico in arrivo nell'area E' un amico firmata, sappiamo dove sono gli altri 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 Sopravvivi fino al rischieramento della tua squadra Hey guys, stay near, stay near please Sopravvivi fino al rischio 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 Sopravvivi e la tua squadra potrà rientrare Sopravvivi fino al rischio 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 Sopṛṣ conoscete i droni spia ci sta addosso scacciamoli questo settore scotta perdete terreno muovetevi puntate alla zona sicura c'è molta strada da fare non 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 Ok la zona sicura è piuttosto lontana lo same di droni ancora attivo forza la zona sicura Sì, non è vero. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.